Buongiorno a tutti, anzitutto ringrazio il Polo Culturale Mezzocannone 8, l'Associazione Mine Creative, Maria Pia Cacace per l'invito graditissimo, perché mi dà la possibilità di portare qui oggi l'esperienza che stiamo realizzando nel comune di Capaccio Pestum da un paio d'anni e è un'esperienza che io solitamente non partecipo a questi incontri però credo che sia importante perché racconta come la cooperazione fra istituzioni, terzo settore, istituti scolastici può veramente apportare quel cambiamento di cui spesso si parla ma c'è poi bisogno di concretezza perché queste parole diventino fatti. Un percorso nel quale devo dire da subito, devo ringraziare la scintilla da cui tutto è partito che è la dottoressa Anna Maria Vitale che oggi non è qui perché insegna, è una bibliotecaria, una donna veramente di grande cultura, passione, che nel 2018 nel comune di Agropoli che è il comune limitrofo a Capaccio Pestum ha portato l'idea di avviare un progetto biblioteca digitale, nel biblioteca per l'inclusione prima. Abbiamo risposto a un bando del CEPEL, il centro italiano per il libro e la lettura e da lì è stato finanziato e così è cominciata questa avventura, un'avventura nella quale abbiamo creato una rete fra comuni, terzo settore, cooperative, istituti scolastici che con questo primo progetto, biblioteca per l'inclusione, ha cominciato a strutturarsi, a mettere insieme le energie, a indirizzare la voglia di riavvicinarsi alla lettura, ai libri che io ho registrato in questa esperienza essere molto molto forte. A questo punto nel 2019 esce un nuovo bando promosso da Fondazione con il Sud, CEPEL e ANCI e lì ormai il gruppo degli appassionati si era formato, la rete esisteva, abbiamo risposto al bando e qui devo ringraziare un altro soggetto fondamentale in questo percorso che è la cooperativa Gunaikes, è qui presente Claudia Brugnola, la dottoressa Brugnola che ci accompagna ormai da due o tre anni in questo percorso con tutto lo staff e questo è l'esempio di come appunto l'integrazione, la collaborazione fra istituzioni, comuni, terzo settore e professionisti, progettisti perché poi in questa esperienza io sono funzionaria del comune di Capaccio Pestum in realtà non sono una bibliotecaria, sono esperta di politiche europee e sviluppo locale e infatti rappresento il comune di Capaccio Pestum come responsabile dei progetti speciali e della pianificazione strategica, quindi coordino questi percorsi ma i protagonisti poi sono appunto persone come Anna Maria Vitale, responsabile del progetto Biblioteca Digitale e la cooperativa Gunaikes che insieme alle scuole, alle associazioni, al forum dei giovani credo erano oltre 30 le associazioni che facevano parte di questo partenariato e la cosa bella di questa esperienza è che appunto siamo partiti con Biblioteca per l'inclusione che era un progetto che voleva far vivere la biblioteca come luogo di incontro, di scambio, di dialogo come diceva anche prima la dottoressa e poi Biblioteca Digitale invece ha dato quel, avvicinava, doveva avvicinare il mondo dei giovani in particolare a questa esperienza perché metteva a disposizione una piattaforma online la piattaforma Mlol che praticamente rende possibile il prestito gratuito di una collezione librae enorme, video, audiolibri, riviste internazionali insomma c'è una collezione davvero enorme e con questo progetto Biblioteca Digitale il comune di Capaccio Pesso un capofila insieme a Gunaikes che era il soggetto che ha realizzato il progetto e appunto un partenariato molto ampio tra cui l'unione dei comuni Pesso Malto Cilento abbiamo realizzato questo progetto la cosa, poi che cosa è successo e qui l'aspetto interessante di questo progetto che ovviamente Biblioteca Digitale non prevedeva soltanto la realizzazione della parte immateriale di animazione ma anche la realizzazione di laboratori laboratori di scrittura creativa, storytelling le cose insomma che conosciamo rispetto a questo mondo che avvicinano i giovani e la comunità alle biblioteche al che io non sono di Capaccio Pestum e quindi chiedo alle persone del posto di accompagnarmi in biblioteca perché volevo prendere atto delle cose da farsi e lì appunto scopro che nonostante parliamo di Pestum quindi insomma con tutto ciò che significa in termini di cultura questa realtà la biblioteca era una stanza vecchia, impolverata, triste con libri ormai obsoleti buttati lì senza catalogazione utilizzata come accoglienza a servizi sociali insomma una cosa e la sala polifunzionale è tenuta malissimo la cosa che ci colpì che sulla porta davanti alla biblioteca c'era scritto dai ragazzi in questa biblioteca non ci sono libri insomma capimmo che c'era un problema per cui potevamo fare tutte le politiche di animazione di avvicinamento però poi in realtà bisognava anche dare la possibilità a questi giovani o a quelle famiglie, alle scuole di vivere la biblioteca la fortuna in questo caso ha voluto che il sindaco di Capaccio Pestum è Franco Alfieri noto per la sua concretezza e quindi di fronte alla richiesta fatta diciamo ma la biblioteca così non può essere un veicolo della cultura perché non possiamo fare neanche un incontro facemmo un sopralluogo e fu bellissimo perché io ero lì con l'architetto perché poi ovviamente abbiamo voluto dare a questa biblioteca una linea moderna, funzionale luminosa, colorata e quindi ero lì con l'architetto che ci avrebbe aiutato e lui arrivò, il sindaco Alfieri e io ero tutta entusiasta perché ovviamente mi piaceva questa idea e lui arrivò e disse avete carta bianca anzi se serve facciamo un altro piano nel senso che il sindaco e qui le istituzioni che devono stare vicino a questi percorsi è una persona insomma di grande visione e quindi ha capito immediatamente che lui era sindaco da pochi mesi il progetto Biblioteca Digitale lui si è insediato a giugno è stato candidato a luglio mi pare uno dei primi poi finanziato e quindi ha capito che se volevamo fare un percorso di rinascita reale e di mettere al centro la cultura come spesso nelle campagne elettorali si dichiara si doveva partire dalle biblioteche e quindi ha deciso di investire risorse e al 7 gennaio quindi nel 2019 abbiamo iniziato a realizzare il progetto Biblioteca Digitale poi appunto questa scoperta che le biblioteche non erano così attive e funzionali e quindi il 7 gennaio 2021 quest'anno abbiamo avviato i lavori di Biblioteca Erika che è questa biblioteca che è stata totalmente ristrutturata riorganizzata e in soli 6 mesi abbiamo da una parte fatto i lavori di ristrutturazione e dall'altra organizzata la biblioteca perché bisognava recuperare i libri abbiamo acquisito nuovi libri stabilito una bibliografia capace di attirare i giovani e in questo Anna Maria Vitale la professoressa è stata insomma molto vicina abbiamo fatto un corso per la catalogazione SBN i ragazzi che avrebbero lavorato lì con la regione con l'AEB e quindi a fianco alla ristrutturazione è stato necessario tutta la parte organizzativa e su questo dico è stato importante dare un taglio moderno funzionale all'attività per cui è stato creato un sito web un canale Instagram una comunicazione con un'immagine dedicata questa qui è Biblioteca Erika questo è il logo abbiamo scelto la rosa di Pestum in simbolo simbolo della rinascita della fioritura perché il claim è a Capaccio Pestum la cultura fiorisce e quindi in questa sala polifunzionale ci sono questi grandi quadri con questa rosa declinata in vari colori con quattro frasi che raccontano la nostra idea di biblioteca aperte a chi vuole partecipare aperte a chi vuole conoscere aperte a chi vuole crescere aperte a chi vuole capire in queste parole ovviamente c'è il concetto che diceva anche prima la dottoressa che la biblioteca deve essere un luogo inclusivo di partecipazione di coprogettazione e quindi questo è stato dopo pochi mesi sei mesi quindi abbiamo aperto Biblioteca Erika il 18 giugno 2021 in quell'occasione la sera c'è stato anche il premio strega ai templi di Pestum per cui l'amministrazione diciamo Alfieri ha deciso veramente di dedicarsi non solo di investire economicamente ma proprio di dedicarsi a questo mondo per renderlo attrattivo questa attenzione ha fatto sì che la fondazione Bellonci che organizza il premio strega il 7 luglio sempre di quest'anno ha firmato una convenzione con il comune di Capaccio Pestum per accompagnarci in questo percorso di crescita culturale che parte dalle biblioteche e quindi il presidente Giovanni Solimine è stato da noi e ha firmato questa convenzione grazie alla quale insomma ci accompagnano in tutta una serie di attività che riescono in questo modo ad avere una risonanza mediatica rilevante per cui la cultura come dicevo prima oggi anche a livello mediatico su Capaccio Pestum è una realtà ma la cosa bella diciamo che subito dopo aperta la biblioteca noi l'abbiamo aperta tutti i giorni anche di domenica in estate ci sono gli operatori e c'è tutta l'organizzazione per il prestito del libro e su questo vi ho portato a vedere un'idea che ha avuto l'amministrazione molto carina a tutti i neonati della città di Capaccio Pestum quando il genitore va all'anagrafe e registra il proprio bambino donna questo libricino che in tempo di covid abbiamo strutturato così c'è una siringa con tutti i nomi di grandi autori vaccino libero libro iniettiamo cultura e questo libricino dietro porta la ericard la ericard che è la card la tessera della biblioteca che ti dà accesso a tutta una serie di servizi oltre che al prestito ovviamente e quindi questo è un modo per dire che da quando nascono vogliamo accompagnare insomma i nostri cittadini e devo dire è stata molto apprezzata perché giustamente queste sono piccole cose che però insomma fanno capire la dedizione con cui si fanno certe politiche e ovviamente questo nel momento in cui verrete a Capaccio Pesto vi aspettiamovi per quest'anno la tessera è gratuita l'idea poi è di fare ovviamente un minimo di lavoro anche per un minimo di pagamento però per ora è gratuita e quindi siete invitati nella nostra biblioteca a farvi la tessera e a seguirci sul sito web biblioerica.it il canale Instagram dove noi portiamo cioè promuoviamo le nostre iniziative questa cosa è stata la cosa bellissima è stata dopo poche settimane in estate vedere la biblioteca piena di ragazzi che venivano a studiare è stato bellissimo il sindaco passava e mi telefonava perché dice ah ci sei ragazzi cioè voglio dire è venuta fuori un'esigenza che nessuno magari avrebbe mai messo per iscritto registrato invece c'era i ragazzi hanno cominciato a fare presentazioni di libri le scuole hanno due giorni a settimana dedicate a loro associazioni si sono unite in questa anche i privati ci sono società importanti a Capaccio Pessum anche S.P.A. Profit che hanno firmato il patto della lettura perché poi tutto questo percorso ha fatto sì che il 17 settembre abbiamo firmato il patto per la lettura di Capaccio Pessum col Cepel è stato presente alla sottoscrizione il delegato Anci Vincenzo Santoro delegato Anci Turismo e Cultura che ha visto la biblioteca conosceva il progetto è rimasto insomma soddisfatto del fatto che sui territori accadono cose concrete che dimostrano che certi percorsi effettivamente possono generare insomma effetti impatti reali inattesi per certi perché il sindaco insomma ha dato carta bianca perché fortunatamente è uno che ha visione magari un altro mi diceva non ci sono soldi perché funziona un po' così e invece ha deciso di investire e il patto per la lettura hanno aderito al patto per la lettura quasi 50 fra associazioni librerie scuole e questo risultato è stato anche la dimostrazione che è un mondo dove bisogna investire dedicarsi e crederci perché poi si catalizzano energie insomma è veramente un'esperienza che a me ha dato molto e concludo con un aspetto che diciamo ha ha dimostrato quello che dicevamo prima la cooperazione insomma aprirsi al territorio cioè fare le cose da soli non serve e così che cosa è successo che il il sindaco di Capaccio Pessum Franco Alfieri è anche presidente dell'unione dei comuni Pessum Alto Cilento sono 11 comuni circa 60.000 abitanti quindi una città vista dall'alto che coinvolge i comuni di Capaccio Pessum e Agropoli le due città e piccoli comuni dell'entroterra e a luglio 2021 quindi sempre in questi sono stati mesi molto ricchi ha deciso che questa esperienza visti i risultati doveva essere vissuta anche dai comuni di Mitrofi e così è nato il sistema bibliotecario Pessum Alto Cilento un sistema che mette in rete le biblioteche del territorio sia quelle pubbliche che private ce ne sono ma soprattutto stimola le comunità locali a loro volta a vivere le biblioteche e a farle rinascere quindi l'obiettivo è quello di creare su ogni comune anche i piccoli comuni dell'entroterra una biblioteca con questo taglio moderno innovativo che faccia vivere la stessa la comunità e così il 23 luglio abbiamo inaugurato biblioteca Pavone nel palazzo baronale di Torchiara ad Agropoli la stanno ristrutturando a Ogliastro sta per nascere un'altra biblioteca nella fondazione De Stefano Laureano ha ricominciato con le attività in rete e anche Prignano è già operativa perché poi questa attività che cosa ha permesso che il nostro know-how rispetto alla richiesta di contributi per acquisto libri dal Ministero oppure i contributi della Regione Campania sull'animazione bibliotecaria ovviamente l'abbiamo fatta per tutti la richiesta e quindi si è creato sul territorio una capacità anche progettuale e man mano di realizzazione di questo tipo di iniziative che sta dando veramente dei risultati interessanti belli perché la biblioteca in particolare i ragazzi la sentono propria e quindi i ragazzi delle scuole chiedono di aprirla che vogliono andare a studiare in biblioteca anche nei piccoli comuni per loro insomma si sentono importanti che hanno la biblioteca dove si possono incontrare studiare e coprogettare per cui abbiamo poi avviato con questi contributi della Regione Campania dei laboratori di storytelling di video di scrittura creativa e quindi già hanno scritto un libro stanno facendo insomma queste biblioteche sono diventate quelle che abbiamo definito bibliohub cioè degli hub culturali presidi della cultura sul territorio capace di rimettere in movimento effettivamente le energie migliori di un territorio che poi sono quelle dei giovani delle famiglie insomma delle comunità e questa cosa ciliegina sulla torta sembra assurdo che abbiamo fatto tutto in un solo anno ha spinto il presidente sempre Franco Alfieri che ha questo approccio concreto e visionario a candidare ha voluto fortemente la candidatura di questo territorio l'Unione dei Comuni Pestum-Altocien a Capitale della Cultura 2024 sappiamo che quest'anno è Procida 2022 per cui la candidatura ovviamente parte svantaggiata nel senso che sappiamo che sarà difficile vincere però il presidente ha voluto questa candidatura proprio perché si è accorto che è la cultura che va messa al centro delle politiche di sviluppo di un territorio di crescita e anche la candidatura è uno strumento per lui e quindi con grande fatica però l'abbiamo fatto abbiamo fatto un dossier che devo dire molto bello mi ha portato a vederlo e il direttore scientifico del dossier è Giovanni Solimine il presidente di fondazione Bellonci premio Sega di grande cultura insomma a livello nazionale l'AIB anche fa parte del comitato promotore e lo dico con questo entusiasmo perché perché nel dossier la parte dove si racconta questa si dice perché vi candidate dice proprio questo verso la capitale della cultura un processo partecipativo già in atto e il paragrafo è dedicato a questa storia che vi ho appena raccontato perché questa candidatura non sarebbe stata possibile se non avessimo se non fossimo partiti dalle biblioteche e quindi inizia proprio con questa con questa frase il percorso verso una unione che crea cultura e la diffonde nasce già nel 2018 con biblioteca per l'inclusione le biblioteche centri di aggregazione presidi territoriali della cultura e quindi io dico quello che abbiamo fatto a Capaccio Pestum è un esempio che davvero bisogna diffondere perché poi si cresce davvero solo se si cresce insieme e la cultura deve essere aperta diffusa e su questo stiamo lavorando devo dire tutti i giorni perché sono percorsi in cui poi in contemporanea si attivano le scuole le associazioni e quindi credo che è la dimostrazione questa esperienza che anche in piccole realtà perché poi grazie appunto a Capaccio Pestum anche i comuni limitrofi lo stanno vivendo si può rimettere la cultura al centro renderla un qualcosa vissuto in maniera diffusa e la cultura crea cambiamento solo se diffusa e quindi questi momenti anche di scambio di conoscenza devono essere il momento appunto per testimoniare che si può fare e quindi io ringrazio ancora gli organizzatori e spero che questa testimonianza possa far venire voglia insomma a qualcuno di dire altre realtà facciamolo perché funziona grazie 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 a tutti